Festa USB, sesta edizione. Noi non dimentichiamo. 28, 29 e 30 agosto 2020. Piazza Loiucco, Talsano, Taranto. Dibattiti e, a seguire, spazi riservati allo spettacolo e all'intrattenimento. Ecco il programma completo. Venerdì 28 agosto, ore 19 e 30. Dibattito. Taranto. La riconversione è possibile. Interverranno il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, Luca Contrario di Giustizia per Taranto, Francesco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto. Per l'occasione ci sarà la premiazione degli atleti tarantini, la nuotatrice Benedetta Pilato ed il pugile Luigi Merico. A seguire, la parte dedicata allo spettacolo, il cabaret di Matranga e Minafo e supernova duo acustico con Valentina Martucci. Sabato 29 agosto, ore 19 e 30. Dibattito. Introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Interverranno il ministro per gli affari regionali ed autonomie, onorevole Francesco Boccia, l'ex ministro e senatrice Barbara Lezzi, Pierpaolo Leonardo dell'USB nazionale, Amedeo Zaccaria, familiare di una vittima del lavoro, l'avvocato penalista Francesco Negoli, Fabio Galati della rete ISDE. A seguire il momento dell'intrattenimento. Supergianto e Zumba, a cura dell'Afrodite. Ed il concerto di Gabriella Martinelli. Domenica 30 agosto, ore 19 e 30. Dibattito. Internalizzazione dei servizi ASL. Interverranno Stefano Rossi, direttore generale ASL Taranto. Vito Santoro, amministratore unico di Sanità Service Taranto. Gianni Palazzo, USB Sanità. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Paolo Castronovi, assessore alle società partecipate del comune di Taranto. Gianpiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente Ani. A seguire vari momenti di spettacolo con Sasal Trampoliere, con il cabaret di Pino Campagne e con il concerto dei Motiva. Festa USB, sesta edizione. Noi non dimentichiamo. 28, 29 e 30 agosto 2020. Piazza Loiucco, Talsano Taranto.